Cracking Cancer, già il nome stesso lo dice, vuole leggere questa fase in cui il cancro si sta sgretolando, quindi è un elemento di positività rispetto a questa malattia. Ma è anche un evento che si caratterizza per tenere insieme temi a volte tra loro distanti, le nuove acquisizioni scientifiche, l'organizzazione dei servizi oncologici, la comunicazione e i problemi legati alla sostenibilità economica del percorso oncologico. Cioè questa visione un po' olistica e fatta da attori diversi caratterizza fortemente Cracking Cancer perché partiamo dal presupposto che non si può affrontare un tema così ampio, con ricadute così importanti, se non tenendo insieme punti di vista diversi. L'altra caratteristica è che nella sua storia Cracking Cancer viaggia attraverso le reti oncologiche del nostro paese. Siamo partiti da Firenze, siamo andati a Napoli, a Torino, a Padova, a Palermo, ora siamo a Genova, in Liguria. Quindi questo elemento della rete oncologica è un altro elemento che caratterizza fortemente. E anche i due temi che abbiamo scelto per l'evento di Genova sono dentro questa scia di affrontare il tema da punti di vista diversi. Un tema è il cambiamento epidemiologico, è cambiato tanto in oncologia, si sono aumentati i soggetti guariti, quindi la curabilità del tumore è aumentata. C'è stato questo fenomeno incredibile della cronicizzazione della malattia oncologica che è un fenomeno che deve essere letto, per cui abbiamo un aumento enorme per fortuna di casi prevalenti. Ecco, l'organizzazione deve tener conto di questo cambiamento. Parleremo anche di oncologia territoriale, parleremo anche di nuovi metodi per valutare la spesa in oncologia. E l'altro tema è quello della ricerca, letta da una visuale più particolare, che è quella della ricerca di rete. Noi abbiamo ormai il modello a rete sempre più diffuso nelle regioni, dobbiamo fare in modo che anche la ricerca coinvolga l'intera rete oncologica, quindi le strutture di riferimento scientifico, ma anche le attività più periferiche. Questo è un po' quello che vuole essere Cracking Cancer.